Il professor Luciano Sgrazzuti, presidente dell'Associazione Sportiva Equip, illustra una nuova iniziativa del sodalizio. Quest'anno abbiamo pensato di doppiare la passeggiata, abbiamo pensato di ripetere, partendo però dalla Sportler, in modo tale da cambiare un po' l'idea della cosa, però mantenendo lo stesso tipo di percorso. Noi a metà percorso ci fermeremo in seminario e lì faremo una piccola cerimonia, pianteremo un albero in segno di fiducia, in segno di un futuro buono, in segno di speranza. Quindi noi dopo quella fase lì faremo anche una premiazione dei bambini del Pedibus che hanno partecipato per tutto l'anno alle attività di Pedibus e poi oltre al ristoro che resterà lì, poi si ritornerà a Sportler e lì verrà consegnato tramite il cartellino di partecipazione un seme che ogni concorrente può piantare dove vuole. Però hanno sorteggiato sei premi dondati dalla Diadora per più fortunati. Le considerazioni dell'assessore allo sport Walter De Bortoli. Questa proposta è una proposta straordinaria, vedere la nostra città in contemporanea avere il gruppo dei papà e la mamma con i bambini e magari qualche nono vicino, penso che sia un fatto costruttivo fondamentale anche di sport, di stare insieme, di voler luttare insieme. E per cui il giorno 29 alle mattine 9 e mezza partiremo dallo Sportler per poi raggiungere il seminario e sarà proprio la prima passeggiata della città di Pordenone per parchi ma anche il primo albero che metteremo in memoria di questo momento importante.